ehi impregatori adesso non prendi l'uovo di pasta no è mio è mio minchia dammi l'uovo lo prendo io leo leo si è calmato si è trovato quella cantina e dai facciamo la scena leo che bello questo uovo di pasta ma lo prendo ma lo prendo ma c'è cioccolato non 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 non